ciao prima di tutto mi scuso perché ho perso la clip introduttiva comunque sia iniziamo a sfogliare l'album numero 16 del libro che valido fino al 27 dicembre del 2017 e quindi questa è anche l'ultima occasione per poter acquistare anche dall'album di natale ma direi di iniziare a sfogliare l'album tutti i prodotti per prepararsi al periodo dei party quindi iniziamolo subito eccolo prima novità intanto io regalo la trousse con l'acquisto di 25 adesso vi faccio vedere la trousse con 25 euro di prodotti make up eccola la trousse questa molto carina anche una pochette per portare dentro tutti i prodotti 25 euro di prodotti make up che ora vi mostro intanto abbiamo il primo set di 795 che comprende il correttore e fondotinta eccoli il il fondotinta è quello zero difetti che è fantastico e il correttore quello classico zero difetti allora il correttore lo potete scegliere tranquillamente qua tra tutte le colorazioni disponibili il fondotinta pelle perfetta eccolo qui tra tutti i colori quindi il fondotinta lo scegliete tra i colori e il correttore con il codice rosso perché sarà è presente anche in altri set ad esempio questo che l'altro set diciamo 795 dovete sempre il correttore più il fondotinta ma in questo caso il zero difetti quindi scegliete il fondotinta zero difetti quello che preferite con il correttore sempre quella della colorazione che preferite col codice rosso poi tutti gli altri prodotti fanno sempre parte dei prodotti che possono essere con 25 euro e ne maggio la pochette quindi anche per questi le cipre il fard l'altro set che comprende il primer più rossetto gran rouge quindi il primer labbra con il codice rosso e il rossetto gran rouge tra i colori che preferite con i nude i malva i rosa e i rossi tutti gli altri rossetti invece fanno parte sempre per la promozione dei 25 euro i prodotti per gli occhi le sopracciglia le palette tutti gli ombretti tutti quanti le matite eccola le matite stilo waterproof i mascara e tutti i prodotti per le unghie ecco fino a questa pagina allora altra promozione che vi mostro eccola qui è perché acquistando due prodotti capelli si ha in omaggio il trattamento a riparazione notte quella 30 ml che tutti ne parlano quindi davvero il caso di provarlo acquistando due prodotti per i capelli tra tutte queste linee quindi tranquillamente scegliete voi quali ecco le varie linee di nutrizione quelle per i capelli lisci quelle per i capelli ricci capelli spenti anche questi ed è quelli bio eccola qui i normali e anche questa e quelli per i capelli colorati eccoci questo era tutto l'album allora io vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box lo troverete ci sono i link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare in formato pdf il catalogo così lo potete tranquillamente sfogliare sul vostro computer io vi ho fatto una carrellata generale delle promozioni però il catalogo è davvero tutto da sfogliare perché ci sono oltre le promozioni anche tanti consigli per prepararsi ai party che è il periodo tra Natale e Capodanno ed è basta io come sempre vi auguro intanto buone feste e buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Evo Rocher grazie a tutti grazie a tutti